Cici, intanto grazie per il tuo tempo. Allora, passione e generosità sono doti non comuni oggi, ma che caratterizzano Francesco Rapisarda e che potrebbero forse consentirli di indossare la fascia da capitano per la prossima stagione. Sapevi che avremmo iniziato con questa domanda perché i tifosi giustamente stanno indicando in te il futuro capitano nel post Lodi. Questo non lo so, è una cosa che si vedrà dopo la società insieme al mister e chi di dovere. Sarebbe un onore per me indossare la fascia di capitano nella mia città, però ancora c'è tempo per deciderlo e concentriamoci sul lavoro e per quanto riguarda il capitano si vedrà più avanti. A proposito di lavoro, di concentrazione, dopo dieci giorni di ritiro a che punto siete? O meglio, siete più stanchi o convinti di poter scrivere una nuova e importante pagina di questo club? Penso che la stanchezza sia normale perché stiamo lavorando tanto, stiamo faticando tanto. Fa anche abbastanza caldo, non come i primi giorni, adesso molto meglio. Però il ritiro serve per questo, serve per mettere benzina sulle gambe e per poi arrivare prontissimi per l'inizio del campionato. Ciccio, con Tabbiani cos'è cambiato? Il modulo è lo stesso, 4-3-3, ma qualcosa di diverso si vede all'esterno. L'aggressività, la mentalità della squadra, il modo di approcciare e comunque l'allenamento, cosa c'è di diverso rispetto al passato? Ogni allenatore ha le sue idee. Mr. Tabbiani ha portato qualcosa di nuovo, ha delle idee diverse rispetto a tanti altri allenatori che ci ha avuto. Stiamo cercando di fare tutto ciò che vuole, cercare di farlo nel migliore dei modi e per poi far sì di riportarle la domenica durante il campionato. Ciccio, tanta attesa e un solo obiettivo attorno a questo Catania, che è quello di vincere? Sì, l'obiettivo rimane quello, ma sappiamo benissimo che quest'anno non è facile, ma la società e il direttore insieme al mister stanno allestendo una squadra abbastanza competitiva per poter lottare e confrontarci con tutte le migliori della Serie C. Sicuramente non mancherà il Catania, questo è sicuro. Chi scenderà in campo darà sempre il massimo per vincere. Secondo te quali sono stati gli ingredienti principali del successo della passata stagione? Come ho sempre detto l'anno scorso, l'obiettivo principale è stato ed era quello di vincere il campionato e penso che il gruppo abbia fatto la differenza. Stiamo cercando di riportare a meno quelli della passata stagione la stessa mentalità, la stessa voglia di vincere con tutti quelli nuovi che sono arrivati e ad oggi sono molto contento di tutti i compagni nuovi che sono arrivati perché si sono messi subito a disposizione e ci stanno dando una grossa mano. Ti faccio le ultime due e poi ti mando ad allenarti perché ti ho rubato fin troppo tempo. Hai parlato di compagni che sono rimasti e di compagni che non sono stati riconfermati. Sabato qui a Zafferana è venuto il capitano Lodi ed è stato un po' strano vederlo in camicia, in giacca, in borghese. È stato molto bello il modo in cui l'avete accolto, il modo in cui l'avete fatto festa. Ti ha sorpreso il suo addio al calcio? No, perché già ne parlava da qualche anno. Sì, ci ha fatto un po' strano vederlo in quella tenuta, se così si può dire. In giacca e camicia non l'avevo mai visto. Te ci dobbiamo abituare a vederlo così? Mi sa di sì, ho mai preso la decisione, quindi penso che sia quello. Non so cosa gli riserverà il futuro, ma penso che abbia scelto quello. Siccome ti si sta allungando il naso, tu sai perfettamente cosa gli riserva il futuro. Diamo un voto da 1 a 10 a Rapisarda per la scorsa stagione, perché io vedendo un po' le tue statistiche, Ciccio hai fatto 6 reti, 7 assist, ma la cosa che mi ha impressionato è che compresi i 7 gol lo scorso anno, tu in carriera hai realizzato 26 gol. Di questi 26, 7 con la maglia del Catania, 15 assist di cui 7 col Catania. Quindi numeri mostruosi, quindi il voto deve essere alto. Non mi do un voto, perché ho iniziato un percorso qui e spero di finirlo nel migliore dei modi. I voti li lasciamo fare agli altri e spero di ripetermi quest'anno e di dare una grossa mano al prossimo campionato e a tutti i miei compagni. Ciccio, grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie.